Serrande abbassate, vetrine spente. Assomiglia a un bollettino di guerra la situazione del commercio in Biangarano. Cinque negozi chiusi, nell'arco di poche centinaia di metri. Specchio della crisi che sta vivendo il settore a Bassano. Oltre a chi chiude c'è anche chi ha deciso di andarsene, ma Biangarano è pur sempre a pochi passi dal Ponte Vecchio, non in periferia. Eppure, a giudicare da quello che sta succedendo, le percentuali di chiusura assomigliano di più a quelle drammatiche diffuse da Confcommercio per i quartieri di periferia, dove i negozi chiusi superano anche il 40%. In Biangarano a poco, forse a nulla, sono serviti i lavori di circa un anno fa che hanno visto la ristrutturazione della pavimentazione. E come se non bastasse, questa strada è ancora sotto assedio dai cantieri e quindi inevitabilmente da un continuo via vai di camion, che certo non rendono giustizia all'ingresso ovest del centro storico. Ma non è finita. Ce n'è anche per gli automobilisti. Chi parcheggia in Biangarano si trova ad avere a che fare con un parchimetro guasto la settimana e con l'unico funzionante rimasto per giorni impostato con un orario sbagliato. Dopo vari solleciti è stato ripristinato correttamente. Biangarano è anche la via del prestigioso Palazzo Buonaguro. Peccato che, mostre a parte, sia impossibile visitarlo. Resilenti e negozianti si sentono cittadini di serie B e tramite noi chiedono risposte al sindaco. A lui domani la parola.